Tornano ad esplodere le proteste in Bahrain, dove i militanti dell'opposizione si sono scontrati con le forze dell'ordine. Le proteste hanno seguito la condanna del noto difensore dei diritti umani Nabil Rajab. Sei mesi di prigione per attentato alle istituzioni, un'accusa scatenata da due messaggi su Twitter del militante della maggioranza sciita.